Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il primo test congiunto di ieri tra il città di Teramo e la Juniores Torricella Sicura è terminato 14-0. Sul fronte mercato il colpo però lo ha fatto il Teramo, perfezionando l'accordo con l'esperto centrocampista Francesco Esposito, 31 anni, nativo di Perugia, vanta oltre 350 presenze in Serie D. Una mezzala che dopo aver iniziato la propria carriera nel Ponte Vecchio ha vestito in successione le maglie di Gualdo Casacastalda, Foligno, Mattelica, Pineto, Vastese e nell'ultima stagione Atletico Ascoli con cui ha vinto il campionato di eccellenza, totalizzando 29 presenze e 5 reti. L'amicizia con Pomante come giocatore tecnico ha facilitato il buon esito dell'operazione. Torno in Abruzzo dopo la parentesi che ho fatto all'Atletico Ascoli nelle Marche e sono molto contento di essere arrivato a Teramo. Conosci bene la piazza soprattutto e l'anno passato comunque hai vinto un campionato di eccellenza. Sì, conosco la piazza perché comunque Teramo è stato molti anni nei professionisti e per questo l'ho seguita. Adesso è tutta un'altra situazione e sta a noi riportare il Teramo nelle categorie che contano. È stato anche ingaggiato il 26enne attaccante argentino Thomas Oses, esterno offensivo di Piedemancino. Ha giocato in seconda divisione uruguayana per poi tornare in patria vestendo le maglie del club sportivo Belgrano prima di abbracciare l'Italia nella scorsa stagione, siglando 11 marcature con il milianico in promozione. Sono molto felice per la possibilità concessa, le sue prime parole. Mi sono informato Teramo è una squadra di grande tradizione in Abruzzo accompagnata da un pubblico molto caloroso. Ho cominciato la mia carriera, dice Oses da centrocampista, anche se in campo sono un calciatore offensivo che può giocare sia a destra che a sinistra dell'attacco, ma a milianico sono stato impiegato spesso da trequartista. Voglio dare il mio contributo per portare società e squadra alla conquista della promozione. Il neobianco Rososes si aggregherà al gruppo squadra dal 31 luglio prossimo.